Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 21 febbraio. Ariete, in famiglia dovete mettere un po' da parte l'aggressività per lasciare spazio alla comprensione. Se siete in difficoltà non esitate a chiedere aiuto. Toro, in mattinata sarete molto carichi e decisi ad affrontare ogni problema con il massimo della determinazione. La luna vi rende abili comunicatori. Gemelli, la luna in pesci vi toglie un po' di vivacità intellettuale. Le vostre azioni potrebbero essere condizionate dalla paura. Marte comunque vi spinge sempre all'azione. Cancro, con la luna in pesci è iniziato un periodo florido. Per il lavoro sarete molto più motivati. Sentirete la vicinanza delle persone che contano. Le ode, mercurio in acquario aumenta la vostra ambizione ma può provocare qualche sborso extra di denaro. Ci sono cambiamenti importanti in arrivo sul lavoro. Vergine, c'è ancora una luna difficile nel vostro cielo. In congiunzione con Ettuno vi espone alla falsità. Evitate comunque di essere troppo sospettosi con il partner. Bilancia sarà una giornata da gestire con attenzione. La luna in pesci può turbare il vostro umore e non sempre sarete in grado di ottenere quello che desiderate. Scorpione, ritornerete al lavoro armati di tanta buona volontà. I problemi quotidiani vi sembreranno meno stressanti. La luna in pesci vi aiuta ad essere ottimisti. Sagittario, venere in ariete, un'ottima notizia perché in questa posizione vi permette di ritrovare forma fisica ed equilibrio interiore. L'amore è sorprendente. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Il sole porta nuove energie. La luna vi aiuta a fare chiarezza in situazioni ingarbugliate. Acquario, non prendete accordi importanti. Evitate di firmare contratti impegnativi perché qualcosa oggi potrebbe sfuggirvi. In amore rischierete di perdere la testa. Pesci, la luna nel vostro segno assicura fortuna e amore. Sarà una giornata intensa in cui otterrete ciò per cui vi impegnerete e lavorerete. L'amore sarà intenso, ricco di emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.